Eccoci buonasera, davvero molto da raccontare non solo sul fronte della guerra in Medio Oriente. Oggi ancora bombardamenti, ancora quel campo profughi al centro delle apprensioni e anche delle critiche internazionali. Si sa il bombardamento di Israele, così è stato detto dallo Stato ebraico, per colpire i capi di Hamas che si erano nascosti in quel campo profughi. Ma così ci sono state anche decine e decine di vittime civili. Contemporaneamente da parte dei carri armati di Israele si è portata avanti l'avanzata all'interno del territorio della Striscia. fino attorno a Gaza City. Nel sud però c'è una novità più positiva perché è stato aperto per molte ore e sarà aperto anche nei prossimi giorni per l'uscita dei feriti e di chi ha passaporto straniero il valico di Rafah, quello che va verso l'Egitto. E va detto che sono usciti anche quattro nostri connazionali. Ci sono anche poi però le questioni che riguardano gli ostaggi. Dove sono? Quanti sono ancora? Quanti ne sono in vita? Tra l'altro secondo Hamas sette di loro, di cui tre stranieri, sono stati uccisi proprio negli attacchi, nei bombardamenti dell'aviazione israeliana sui campi profughi. Ma c'è l'azione internazionale che mira evidentemente a trovare una soluzione anche per quanto riguarda gli ostaggi. Mentre ovviamente ci sono tante altre considerazioni come stiamo per vedere a livello internazionale. Cosa può succedere? Quanto si può estendere tutta questa guerra? Il che però porta anche a un altro effetto collaterale indesiderato, perlomeno indesiderato per molti. Perché approfittando dell'attenzione internazionale, racconteremo con dovizia come questa si manifesta sulla tragedia della guerra medio orientale, la Russia ha sferrato sul fronte d'Ucraina l'azione più forte e massiccia di quest'anno solare 2023. Colpiti 118 punti, 118 postazioni sul fronte di 10 diverse regioni dell'Ucraina. Così è denuncia Kiev. Ma è chiaro che la questione ucraina resta un problema. Tanto più, se permesso la licenza che non è poetica, dopo le parole che abbiamo ascoltato di Giorgia Meloni che ha fatto una disamina realistica e evidentemente non facile sulla questione ucraina dicendo che c'è molta stanchezza negli alleati sul tema della difesa di Kiev in quella che riteneva essere una conversazione con un capo di un'organizzazione internazionale africana. Ebbene, era uno scherzo, non è la prima che ci casca, ma ci è cascata Giorgia Meloni e la vicenda crea scalpore e anche problemi di sicurezza perché a passare questi interlocutori che poi erano due noti autori di questo tipo di scherzo, ci erano già caduti la Merkel, Sanchez, Kissinger e a passare questa telefonata è stato evidentemente il dipartimento diplomatico di Palazzo Chigi e ci si chiede se questa permeabilità sia un problema grave per il nostro paese. Inevitabili poi le critiche a Meloni, governo e maggioranza da parte delle opposizioni che come è il loro lavoro e come sarebbe successo a parti invertite accrescono la portata dell'incidente che vi racconteremo con dovizia di particolari. Ma come vedremo ci sono anche altri fatti che ci riguardano direttamente, riguardano tutti. Anche la Federal Reserve americana poco fa ha deciso di mantenere stabili tra il 5,25 e il 5,5% i tassi principali e Jerome Powell che è il capo della Federal Reserve ha detto in sostanza che la strada è ancora lunga, l'obiettivo è inflazione stabile sotto il 2%, siamo pronti a tutti a abbassare ma anche nel caso a rialzare i tassi stessi. Comunque le borse avevano già e continua a fare New York, oggi nonostante la festa di tutti i Santi e tutte le borse erano aperte, hanno apprezzato positivamente la decisione della Federal Reserve americana. Ci sono tante altre cose di cui parlare ma è tempo di fermarci un attimo prima dei titoli. Ancora bombe israeliane sul campo profughi di Shabalia dopo quello di ieri, ennesima azione che porta evidentemente a ulteriori proteste e tensioni internazionali, c'è chi ipotizza di definire crimini di guerra, questi bombardamenti, decine di morti tra i civili e Israele insiste nel dire che sono stati colpiti obiettivi e capi di Hamas. Ci sono vittime anche tra i soldati israeliani. Il leader del gruppo islamico di Hamas, cioè Haniyeh, ribadisce che la condizione per lo scambio tra gli ostaggi e i detenuti palestinesi nel carcere israeliano è il cessate e il fuoco immediato. Aperto il valico di Rafah tra sud della striscia di Gaza e Egitto per consentire a un'ottantina di feriti palestinesi di potersi curare negli ospedali egiziani e ad almeno per ora 330 cittadini con passaporto straniero di lasciare Gaza stessa. Tra questi ci sono anche quattro italiani, volontari di organizzazioni non governative, ospiti ora della nostra ambasciata al Cairo. Sul piano diplomatico tornano a muoversi gli Stati Uniti, Blinken, dopo domani torna in Israele e poi va in Giordania per essere infine a Ankara domenica a incontrare il ministro degli esteri turco. Priorità, evitare l'escalation, mediare per la liberazione degli ostaggi. E la Russia approfitta dell'attenzione mondiale tutta sul Medio Oriente e sferra l'attacco più imponente sul fronte ucraino dall'inizio dell'anno. Massicci bombardamenti con missili, droni e artiglieria hanno colpito 118 obiettivi in 10 regioni nelle ultime 48 ore. Il fronte è da Kherson a Kharkiv. Colpita anche una raffineria. Le truppe ucraine stanno resistendo a fatica alla pesante offensiva russa a Avdivka nel Danetsk. Ma sarebbero ingenti le perdite anche per l'esercito di Mosca. Diventa inevitabilmente un caso. La beffa telefonica di due comici russi alla Premier Meloni è avvenuto il 18 settembre. Uno dei due si era spacciato per il presidente della Commissione dell'Unione Africana nella conversazione con chi credeva essere un interlocutore internazionale. Meloni aveva parlato di crisi ucraina e di dossier migranti. Episodio sconcertante che ha messo a rischio il nostro profilo politico internazionale, ha detto Ellie Schlein, PD. Una figuraccia planetaria per Conte e Movimento 5 Stelle. Agire subito per evitare che si ripetano simili episodi, ha detto Guerini, presidente del Copasier. Anche la banca centrale statunitense, la Federal Reserve, ha deciso di non alzare il costo del denaro, che rimane tra il 5,25 e il 5,5%. Ma il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto che l'andamento dell'economia suggerirebbe una nuova stretta sui tassi e non esclude che ciò possa avvenire nei prossimi mesi. Le borse comunque reagiscono positivamente. a Banca d'Italia è stato il giorno dell'insediamento del nuovo governatore Fabio Panetta, che torna a Via Nazionale, la sede della Banca d'Italia, dopo 5 anni alla Banca Centrale Europea. Buonasera, come avete sentito, sono molti gli argomenti. La gran parte di essi ruotano attorno alla scena internazionale, che soprattutto è incentrata e non potrebbe essere diversamente sulla guerra in Medio Oriente. E ancora di più su Gaza, e ancora stringendo su quel campo profughi di Jabalia, che da ieri è al centro di attenzioni, timori, condanne, denuncia. L'ultima atrocità che ha colpito gli abitanti di Gaza. Così il capo degli affari umanitari dell'ONU, Martin Griffiths, parlando del bombardamento israeliano di ieri sul campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia. Un bombardamento replicato oggi dall'aviazione dello Stato ebraico, secondo quanto riportato dal quotidiano Arez. A Shati e Nuseirat, gli altri campi profughi presi di mira, nidi del terrore, secondo la difesa israeliana. In tutto, a Gaza, dall'inizio del conflitto, il bilancio dei morti riportato dal Ministero della Sanità, dunque da Hamas, e di poco meno di 9.000, tra cui oltre 3.600 bambini. L'obiettivo dichiarato del raid di ieri su Jabalia era un comandante di Hamas, Ibrahim Biari, la cui uccisione, insieme a quella di un gran numero di terroristi, viene confermata dalle forze di difesa, ma la cui presenza nel campo profughi l'organizzazione fondamentalista nega. Al contrario, afferma che tra le decine di vittime, vi sono anche sette ostaggi, tra i quali tre stranieri. Ostaggi, la cui liberazione per mezzo di negoziati appare sempre più lontana, anche perché oggi il leader politico di Hamas, Ismail Anie, ha affermato di aver informato i mediatori che la precondizione per arrivare ad un accordo sullo scambio con i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane è un cessate il fuoco. Opzione che Israele non prende neanche in considerazione, tanto che le forze di difesa dello Stato ebraico continuano anche ad avanzare sul terreno. Secondo un generale israeliano, sarebbero alle porte di Gaza City e nel corso dei combattimenti nella striscia sono morti, in base a quanto riferito dalla radio militare, 16 soldati. Il ministro della difesa Gallant parla di risultati molto importanti che però richiedono un prezzo estremamente elevato. Siamo preparati e pronti ad una campagna lunga e complessa, afferma. Vittime tra i militari israeliani si registrano anche sul fronte nord con il Libano, 7 secondo l'esercito dello Stato ebraico dall'inizio della guerra contro Hamas. Hezbollah invece rivendica di aver ucciso e offerito in tutto 120 soldati in tre settimane. Ma a ribollire è anche la Cisgiordania, dove per oggi Fatah, il partito del presidente palestinese Abou Mazen, ha proclamato una giornata dell'Arabia in risposta al bombardamento su Jabalia e dove non si fermano le violenze dei coloni negli scontri con l'esercito israeliano. Quattro i palestinesi uccisi nella notte, 46 gli arresti secondo le forze di difesa che portano il totale dall'inizio del conflitto a 1180, 740 dei quali membri di Hamas. Ed è sulla Cisgiordania che si appuntano le nuove preoccupazioni. Sono gli stessi Stati Uniti a dire attenzione Israele, là nei territori occupati la responsabilità è totalmente vostra se i coloni vanno a caccia di palestinesi, se fomentano le azioni violente, lì poi la situazione diventa incontrollabile e voi siete comunque dalla parte del torto. Ma in realtà l'azione diplomatica, che poi stiamo per vedere, vedremo nel servizio successivo, è febbrile e coinvolge direttamente soprattutto gli Stati Uniti, è riuscita a ottenere un risultato. Questa mattina, praticamente subito dopo le 8, si è aperto il valico sud della striscia di Gaza, quello verso l'Egitto, a Rafah. Quattro italiani, più la moglie palestinese di uno di loro. C'erano anche alcuni nostri connazionali, fra le centinaia di persone, quasi tutte con doppio passaporto che oggi hanno potuto lasciare la striscia di Gaza. È il valico di Rafah, quello dalla parte egiziana che si apre. Lo fa per la prima volta per far passare cittadini gazauiti e stranieri, dopo la liberazione dei quattro ostaggi israeliani. La mediazione, ancora una volta, è frutto degli accordi fra Stati Uniti, Qatar, Egitto e ovviamente gli attori sul campo, Hamas e Israele. E secondo quanto confermano diverse fonti, potrebbe essere solo l'inizio. Oggi, infatti, almeno 330 persone hanno attraversato il valico, ma il loro numero non è confermato. I primi comunicati parlavano addirittura di 450 evacuati. Mentre sono una novantina i feriti ricoverati negli ospedali egiziani e non solo. E nei prossimi giorni il loro numero potrebbe addirittura moltiplicarsi. Sono infatti 5.000 coloro che, fra doppio passaporto e permessi speciali, hanno qualche ragionevole speranza di uscire da Gaza. Compresi altri nostri connazionali. Intanto si rifocillano e raccontano di stare bene Jacopo Intini e la moglie Amala Kayan, lui originario dell'Aquila, arrivato a Gaza con l'ONG CIS di Palermo. Nei giorni scorsi aveva più volte raccontato di quanto fosse critica la situazione nella striscia. Ora, dopo essere stato accolto dal nostro ambasciatore in Egitto e al Cairo, in una struttura dell'ambasciata nell'attesa di far rientro in Italia. E colui anche Giuditta Brattini, 69 anni, veronese, nella striscia, insieme alla ONLUS La Gazzella, Maya Papotti dell'ONG Azione contro la fame, la milanese Laura Canali. Che la situazione si stesse sbloccando lo aveva preannunciato in tarda mattinata il ministro degli esteri, Tajani, che ha anche confermato l'impegno per far uscire altri nostri connazionali. Con loro, come dicevamo, operatori di ONG tedesche, spagnole, francesi e gran parte del personale di Medici Senza Frontiere. Lavorare a Gaza ormai è pressoché impossibile, hanno detto tutti, invocando nel contempo un cessate il fuoco. È una buona notizia che i feriti possano uscire dalla morsa della striscia di Gaza. È una buona notizia che vadano in sicurezza gli operatori internazionali, soprattutto quelli che compiono il meritorio lavoro nelle organizzazioni non governative. Ricordiamoci di questo, non soltanto in queste occasioni. Ma è chiaro che più coloro che sono preziosi per il mondo escono dalla striscia è più il rischio che Gaza diventi l'area del regolamento di conti tra Israele e Hamas. Per lo Stato ebraico c'è ovviamente qualcosa di importante, che non è tale soltanto per Israele. Non soltanto distruggere Hamas, ma liberare gli ostaggi. E da fuori, evidentemente, questo aspetto sembra secondario. In Israele resta il chiodo fisso. A Kisufim, prima del 7 ottobre, vivevano 334 persone, tutti agricoltori e allevatori. Con loro a lavorare nei campi e con gli animali c'erano molti stranieri, senegalesi, indiani, cingalesi, soprattutto tailandesi. La foria di Hamas ha ucciso in questo kibbutz otto israeliani, tra loro un bambino di 11 anni e sei tailandesi. I miliziani quel giorno hanno fatto irruzione da tre punti diversi. Uno era proprio davanti al settore dei lavoratori stranieri. Di fronte alle case c'erano le bandiere della Thailandia, tra i panni stesi ad asciugare, magliette dall'alfabeto diverso da quello ebraico. Ma nella furia devastatrice di Hamas, la nazionalità non ha fatto differenza, non solo a Kisufim. Quel giorno dei 24 lavoratori tailandesi impiegati qui, ce n'erano 12. abitavano in due case diverse. Quando è scoppiato l'inferno, come tutti gli altri, si sono barricati nei rifugi. I miliziani, per costringerli ad uscire, hanno gettato un fumogeno all'interno, attraverso la presa d'aria. Per chi si trovava dentro, l'alternativa era tra il morire soffocati o morire sotto le sventagliate dei fucili. I sei immigrati tailandesi hanno provato ad uscire, per loro è finita così, neanche per i corpi, dopo c'è stata pietà, ne è stato fatto scempio. La Thailandia è il paese che ha il più alto numero di persone tra gli ostaggi, 24. Il ministro degli esteri del regno è stato in questi giorni, prima in Qatar e poi in Egitto, per favorire il rilascio dei propri cittadini. Sono tutti lavoratori immigrati, come 30.000 che vivono stabilmente in Israele e lavorano nel settore agricolo. Il 7 ottobre ne sono stati uccisi, in totale 32, 19 sono rimasti feriti. Il kibbutz di Chesufim si trova a sud di Israele, molto vicino a Gaza, è uno di quei luoghi dove il 7 ottobre, con il massacro compiuto da Hamas, è cominciata questa nuova guerra, che adesso si sta combattendo, anche ad un chilometro e mezzo da qui. Il rumore della battaglia è l'unico suono che si sente, oltre a qualche uccello che ancora non è scappato, e le foglie secche che si sbriciolano sotto i passi. Qui adesso ci sono solo i soldati israeliani, in uno scenario rimasto fermo al 7 ottobre. Dall'altra parte del confine c'è il centro della striscia, non lontano da quel UA di Gaza, che doveva dividerla in due nelle prime intenzioni di Israele, per creare a sud una zona sicura per i civili. Le bombe però sono cadute anche lì. La diplomazia, dicevamo, cosa può fare? Sicuramente si muovono gli Stati Uniti. Dopodomani Blinken, il segretario di Stato, sarà a Tel Aviv, poi sarà a Amman, per parlare con i governanti giordani. Domenica andrà da quello che è l'avversario in questa fase, nella valutazione su Hamas, e cioè con la Turchia, parlerà con il ministro degli esteri turco ad Ankara. La Turchia, per voce del suo leader, Erdogan, ha detto che Hamas non è un gruppo terroristico, ma di combattenti per la libertà. Ma oggi cos'è successo? Di nuovo in Israele per un faccia a faccia con Netanyahu e poi domenica per la prima volta dal 7 ottobre ad Ankara, dove incontrerà il ministro degli esteri turco, Fidan. Il segretario di Stato americano va avanti incessantemente nel suo tour diplomatico, priorità assoluta di Tony Blinken, la de-escalation della guerra a Gaza e il salvataggio degli ostaggi, quelli col passaporto statunitense soprattutto. Abbiamo assicurato una via d'uscita sicura da Gaza ai palestinesi feriti e agli stranieri. Non smetteremo di lavorare per metterli in salvo, ha scritto poco fa sulle reti social il presidente Biden, ma cresce la preoccupazione alla Casa Bianca per i sondaggi d'opinione e le numerose proteste di piazza di migliaia di manifestanti che chiedendo un immediato cessato il fuoco in Palestina accusano il governo americano di appoggiare incondizionatamente Israele. Oggi il segretario generale dell'ONU Guterres si è detto sconcertato per gli attacchi aerei israeliani ai campi profughi e ancora una volta ha chiesto a Damas il rilascio immediato di tutti gli ostaggi. Stesso tono di condanna per il bombardamento di Jabalia anche dall'alto commissario per gli esteri dell'Unione Europea. Il diritto all'autodifesa del popolo ebraico deve essere bilanciato dall'obbligo di risparmiare i civili. Non è solo un obbligo legale ma anche morale, ha detto Joseph Borrell. In giornata Cile, Giordania e Colombia si aggiungono ai paesi che hanno richiamato gli ambasciatori in Israele mentre la Bolivia ha interrotto le relazioni diplomatiche. E proprio in queste ore è in corso il passaggio formale della presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alla Cina. Consapevoli della grande responsabilità saremo il più possibile inclusivi sulla crisi in Medio Oriente, ha dichiarato l'ambasciatore all'ONU di Pechino, Zhang Jiu. Ma ancora una volta, come per il conflitto russo-ucraino, è la Turchia di Erdogan a tentare un'iniziativa diplomatica di alto profilo. Il presidente iraniano Raisi ha annunciato un prossimo viaggio ad Ankara e i rispettivi ministri degli esteri stanno già lavorando per la visita di Stato. A Raisi Vladimir Putin ha fatto recapitare un messaggio personale. Da ieri a Teheran c'è l'inviato speciale del Cremlino per la Siria, obiettivo dei bombardamenti americani successivi all'attacco di Hamas. E non a caso, domenica 5 novembre, ad Ankara, volerà appunto il segretario di Stato americano. Sta parlando, lo vedo in questo momento, il presidente israeliano Herzog. Se dirà qualcosa, ovviamente, che è importante citare, ve ne daremo notizia. Però vi devo dire che un altro aspetto importante di questa giornata ci porta lontano da Israele e dalla striscia di Gaza. Ma in realtà tutto è collegato perché se l'azione e l'interesse e la prensione internazionale sono tutti rivolti verso la striscia di Gaza, verso i palestinesi, verso gli ebrei, verso gli israeliani, c'è qualcuno che pensa anche ad altro. La Russia ha sferrato contro l'Ucraina l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno con tutti i riflettori dei media puntati sulla guerra in Medio Oriente e con le cancellerie di Mezzomondo impegnate a trovare una soluzione alla nuova crisi, l'esercito russo cerca di approfittare della situazione. 118 insediamenti in 10 differenti regioni ucraine sono stati bersagliati da missili, droni e colpi d'artiglieria lungo tutta la linea del fronte, da Kherson, dove si registra almeno un morto, a Kharkiv, passando per Kremenchuk, città industriale del centro, dove è stata colpita una raffineria che ha bruciato per ore. Un segnale preoccupante per Kiev che teme la stessa strategia di un anno fa, quando Mosca prese di mira le infrastrutture energetiche ucraine in vista del lungo inverno. Mosca, che ora potrà contare anche su un milione di munizioni d'artiglieria che avrebbe appena ricevuto dalla Corea del Nord. A rassicurare Kiev, che vive un momento delicato, confermato anche dalla perduta esposizione mediatica di Zelensky, è stato oggi il responsabile della politica estera dell'Unione. Mosca non dovrebbe farsi illusione, ha dichiarato Borrell. Altre crisi non distoglieranno la nostra attenzione dall'Ucraina. Il nostro supporto continua, finché necessario. E che il supporto sia ancora necessario lo dimostra. La violenta offensiva russa sulla città di Avdivka, nel Donetsk, l'Ucraina regge l'urto a fatica, a costo di ingenti perdite. Quelle russe però sarebbero superiori. Oltre 6.000 uomini persi nelle ultime tre settimane, l'intelligence britannica rivela che nella battaglia in corso l'arma più efficace utilizzata dall'esercito russo sono i piccoli droni Lancet perfetti per neutralizzare l'artiglieria nemica. Ma almeno oggi una buona notizia è arrivata. Cinque minori ucraini erano stati separati dalle loro famiglie e trasferiti in Russia. Ora sono tornati a casa, mentre una bambina russa ha fatto il percorso inverso, a mediare l'onnipresente Qatar. L'annuncio ufficiale è stato fatto da Maria Belova, commissaria russa per i diritti dei minori, destinataria assieme a Putin e di un ordine d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e deportazione di bambini. E proprio la questione ucraina è stata al centro di un colloquio telefonico che Giorgia Meloni riteneva di svolgere, è successo a metà settembre, con il presidente dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Invece era una burla e questo, oltre agli effetti che ogni burla evidentemente genera, ha sortito anche un grosso allarme e delle durissime critiche interne. Raccontiamo tutto. 13 minuti sulla linea telefonica di Palazzo Chigi, credendo di parlare con un alto diplomatico africano, mentre in realtà si trattava di una coppia di comici russi. Una burla. Giorgia Meloni, tutto sommato, ne esce bene. La sicurezza di Palazzo Chigi ne esce a pezzi. La vicenda risale allo scorso 18 settembre, un lunedì. L'ufficio diplomatico di Palazzo Chigi riceve la chiamata da parte del presidente dell'Unione Africana, un diplomatico di alto rango, che chiede di parlare con la presidente Meloni. Detto fatto, la telefonata viene inoltrata, senza ulteriori controlli, direttamente nell'ufficio della presidente del Consiglio dei Ministri, teoricamente alla linea più riservata e controllata d'Italia dopo il Quirinale. Giorgia Meloni parla. Hi, dear Prime Minister, it's nice to hear you, nice to meet you. So, thank you for your time. Ah, how are you? I'm good, I'm good now. I heard many bad news. 13 minuti durante i quali Giorgia Meloni affida le sue riflessioni politiche a quella che si scoprirà essere una coppia di comici, Vovan e Lexus, i loro nomi d'arte. È il 18 di settembre, il giorno seguente la Meloni volerà a New York per parlare di migranti alle Nazioni Unite. Sono dunque riflessioni riservate, sensibili, quelle strappate dalla coppia di comici, che già lo scorso mese aveva centrato un altro obiettivo col premier spagnolo Sanchez, convinto di parlare con il presidente di un paese africano preoccupato per la sospensione dell'accordo sul grano ucraino. E Giorgia Meloni cosa rivela ai comici diplomatici? Sull'immigrazione parla di una situazione molto difficile dove l'Italia è lasciata sola, agli altri non interessa, non rispondono al telefono. E sull'Ucraina dice che c'è molta stanchezza da tutte le parti e che lei ha alcune idee su come gestire la situazione, ma le metterà sul tavolo al momento giusto. Tutto sommato, poteva andare peggio, ma c'è uno scivolone sul Niger e sul colpo di Stato dello scorso luglio. Pensa che quello che sta succedendo sia contro la Francia, chiede Meloni al finto diplomatico, confidando nella sua riservatezza. Rimanga tra noi. Adesso la registrazione è stata postata sulla piattaforma canadese Rumble e poi ripresa dall'agenzia russa Novosti, qui nella pagina internet. Ma la domanda adesso è una. Come pensa di uscirne la sicurezza bucata di Palazzo Chigi? Perché il rammarico espresso dall'ufficio del consigliere diplomatico in realtà è davvero poco, anche perché da più parti già si chiede che Giorgia Meloni riferisca in aula, in Parlamento. Un fatto molto grave, commenta dai Cinque Stelle Giuseppe Conte. Giorgia Meloni ha parlato di dossier delicati con due comici russi. Agire subito, perché ciò non si ripeta, dice il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, PD, dopo aver consultato il sottosegretario Mantovano. Sconcertante, dice la segretaria da M.L. Slain, a rischio il profilo politico sul piano internazionale. Da azione Carlo Calenda chiede che quanto avvenuto non sia strumentalizzato a fini politici. E da Italia Viva, Matteo Renzi la mette così. Una figuraccia. Se questo è il livello della squadra di Palazzo Chigi, proprio non ci siamo. C'è anche una notizia che ci porta in Grecia. Sono ancora ad Atene, in stato di fermo, i 21 italiani appartenenti a Casa Pound, il gruppo di estrema destra, che sono stati bloccati ieri sera al loro arrivo nell'aeroporto della capitale greca. avrebbero dovuto partecipare alla commemorazione di due giovani uccisi nel 2013 appartenenti a Alba Adorata, il partito neonazista che ora è stato disciolto. Tra i fermati, ora in custodia nell'ufficio immigrazione all'aeroporto, ci sarebbero anche il presidente di Casa Pound, e Iannone e il portavoce Marcella. Sarebbero in corso alcuni accertamenti sugli appartenenti al movimento. I fermati dovrebbero poi essere rilasciati e probabilmente espulsi dalla Grecia. C'era attesa, perché alle 7 c'erano le comunicazioni della Federal Reserve americana, la banca centrale degli Stati Uniti, e poi le spiegazioni del presidente della Fed, Jerome Powell. Si sperava che ci fossero buone notizie sui tassi di interesse, un po' come è successo con la BCE la scorsa settimana. E un po' è andata così. La banca centrale americana ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati che per inciso sono al massimo da 22 anni. Il 5,5% l'ha fatto nel meeting di oggi e anche nel penultimo. Una nuova pausa dunque, peraltro attesa dagli analisti e che ha fatto salire i titoli a Wall Street, per capire meglio dove sta andando la nave dell'economia statunitense, ma pronti, ha detto il presidente Powell, a ricorrere a nuovi rialzi di tassi, qualora l'inflazione dovesse restare alta, anche in rapporto al tasso di crescita dell'economia americana. Powell ha detto che la Federal Reserve non prevede una recessione, ma sta tenendo d'occhio le curve dei titoli di Stato americano in cui i rendimenti, tra i titoli a breve e a lungo termine, possono dare indicazioni abbastanza attendibili sull'arrivo di nubi sull'orizzonte economico. Cautela dunque anche perché, un po' come accade nell'eurozona, oltreoceano è ancora un miraggio l'inflazione al 2%, che per inciso ha altre cause scatenanti, e gli americani stanno ancora aspettando dati economici freschi e aggiornati per prendere decisioni, senza contare eventi di guerra che arrivano dal Medio Oriente. Insomma, dice il numero uno della Fed, anche se abbiamo fatto due pause, anche se siamo andati molto, molto lontano, a rialzare i tassi lascia intendere, ci mettiamo un attimo. La doppia pausa americana arriva nel primo giorno di lavoro di Fabio Panetta, governatore di Banca d'Italia. Ieri c'era stato l'addio di Ignazio Visco, la giornata del risparmio Panetta, considerato una colomba nel borde della BCE, viene sostituito a Francoforte da Piero Cipollone dopo il via libera dato dal Consiglio europeo dello scorso ottobre. Allora, Ersog ha parlato, il Presidente di Israele, e ha detto soprattutto una cosa, che la guerra sarà vinta quando saranno riportati a casa gli ostaggi. Questo è quindi l'obiettivo principale per il Presidente israeliano. Come abbiamo documentato in tutta la prima parte del giornale, la situazione adesso è difficile e le critiche sono forti anche alla reazione israeliana nel territorio della striscia di Gaza. Ma insomma, vi abbiamo cercato di raccontare tutto e del resto questo sarà fatto anche dopo di noi. A otto e mezzo, gli ospiti di Lili Gruber sono Luca Iosi, Aldo Cazzullo, tenete a mente questo nome, Marco Travaglio e Brunella Bolloli. Perché tenete in mente il nome di Cazzullo? Perché c'è anche dopo la sua trasmissione del mercoledì una giornata particolare. E questa giornata particolare ci porta indietro di 723 anni, quel giorno del 1300, in cui nel mezzo del cammino della sua vita, Dante Alighieri iniziò il viaggio attraverso l'inferno, il purgatorio, il paradiso. Ci fermiamo. Allora, abbiamo parlato delle cose che ha detto Jerome Powell, il capo della Federal Reserve americana. Le borse in Europa si erano ben intonate, proprio nella speranza che ci fossero notizie rassicuranti. Milano ha chiuso con un più 0,88%, dopo l'avanzata anche di ieri. E in questo momento Dow Jones più 0,78%, a salutare comunque positivamente le parole del Presidente della Fed, e Nasdaq più 1,56%. Gruber, Cazzullo, ci vediamo domani sera. Buonasera.